Buona giornata ragazzi, possiamo solo che ringraziare tutta la comunità qua di Sarzana che fortunatamente abbiamo trovato una sistemazione e dobbiamo andarcene oggi. Cosa posso dire? Ringrazio tutti, un bacione. Grazie mille, grazie veramente tanto a tutti quelli che si erano adoperati per noi. Grazie, buona giornata. E questo è il bimbo, il nostro campione.